Bentornati ragazzuoli con il vostro Mitch qui su FIFA 2014 World Cup Avevo intenzione di fare una cosa, siccome abbiamo finito il mondiale Semplicemente volevo, sempre con capo, sfidare magari le più forti al mondo Quindi la Colombia, come potete vedere in basso a sinistra, c'è scritto ranking mondiale 3 Quindi potremmo fare tipo qualche partita contro le più forti Quindi la prima sarà tipo contro la Colombia Adesso devo andare a cercare la seconda E faremo diciamo le partite così Vite, l'Argentina è la quarta, però mi sa che l'abbiamo già sconfitta, non mi ricordo più Andrò a rivedermi le partite che abbiamo fatto Il Brasile è strano ma è nono E adesso vado a cercare le altre Ok, ho trovato la seconda, la Germania E troviamo la più forte diciamo Perché non so chi sia E niente, la più forte è la Spagna Che l'abbiamo battuta alle finali Adesso vedremo un po' cosa fare Ditemi se volete vedere una roba del genere E altre cose Non so, volevo dirvi tipo Volete che faccia Un attimo Volete che faccia tipo un guidare nazionale Cioè mi crea un personaggio Adesso vi faccio vedere Italia Eeeh Facciamo uno E poi qua Tipo Vabbè ci creeremo il nostro giocatore Adesso per farvi vedere un attimo Sì Va bene Anche reale Non c'è problema Lasciamo così E niente Dobbiamo giocare Nella partita Diciamo Se volete che faccia una roba simile Che magari mi creo io Un po' Ma ha fatto abbastanza bene E faccio una roba del genere Ma riscrivetelo nei commenti Lo so Lasciate il pollicione su Se siete un po' Eeeh Che ne so Non avete voglia di iscriversi Fai sta cosa amici Cioè E poi mi direte Ok Eeeh Niente Sapetemi dire Ciao a tutti